Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Milano Pavia News, tanti temi che affronteremo all'interno del nostro telegiornale a partire dall'esplosione che si è verificata ieri all'interno del parcheggio del commerciale Minerva a Pavia, ci sarebbero degli ulteriori dettagli in merito a questa vicenda e poi passeremo all'esplosione invece che ha riguardato il quartiere di Porta Romana a Milano perché questa mattina un nuovo focolaio ha fatto uscire di nuovo i vigili del fuoco per spegnere queste ulteriori fiamme che si sono propagate nella mattinata di oggi e poi ancora cronaca perché la polizia ha predisposto un dacur per uno spacciatore di Rozzano che vendeva droga vicino ad un asilo nido. Partiamo così. E allora l'avete sentito, in apertura ritorniamo sull'esplosione che ha coinvolto il parcheggio del centro commerciale Minerva di Pavia dove un'auto sarebbe esplosa, all'interno dell'auto ci sarebbe stato un clochard. Oggi si parla, ci sono emersi ovviamente dei nuovi dettagli proprio per questo io vado a collegarmi in diretta con il nostro inviato sul campo, Ermanno Bidone per capire quali saranno gli ulteriori aggiornamenti di questa giornata, di quest'oggi si è parlato addirittura di un possibile suicidio, tentato suicidio da parte del clochard non so se la regia riesce a mandare in onda in questo momento Ermanno. Ecco, Ermanno a te per tutti i dettagli Sì, buongiorno Giuse e buongiorno anche ai telespettatori. Potrebbe esserci, come dicevi, un tentativo di suicidio all'origine di questo grave fatto di cronaca accaduto nel primo pomeriggio di ieri presso il centro commerciale Minerva di Pavia potrebbe essere stato un tentativo di suicidio da parte di una persona, una situazione che ha creato davvero panico e anche problemi alla viabilità quando si è verificata, molti lo ricorderanno, è accaduta una violenta esplosione nei sotterranei, nei parcheggi sotterranei del centro commerciale Minerva attorno alle 13 di giovedì del fumo ha iniziato a uscire dalle grate appunto dei garage sotterranei arrivando persino in Viale Trieste. Sono stati quindi evacuati i negozi e uffici tra cui la sede locale di Regione Lombardia, il patronato Acli è anche confartigianato, peraltro era anche il momento dell'uscita delle scuole, questo ha creato un grosso caos dal punto di vista viabilistico con il traffico che è andato in tilt accanto all'auto esposa nei garage sotterranei è stata trovata una persona a soccorrerla per primo, un medico dentista che ha uno studio lì vicino, poi l'uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno trasferito al Policlinico San Matteo e successivamente in un centro grandi ustionati. Secondo le prime risultanze si tratterebbe di un ex cuoco 55 anni residente nei pressi di Pavia in un paese limitrofo a Pavia che dopo la chiusura della sua attività sarebbe caduto in gravi difficoltà economiche e quindi avrebbe potuto aver compiuto questo insano gesto, inizialmente si era pensato a un incidente perché l'uomo viveva a quanto pare in auto da diverso tempo, utilizzava delle bombole di gas per cucinare mentre secondo gli ultimi aggiornamenti avrebbe saturato apposta l'abitacolo dell'auto con del gas e poi si sarebbe acceso una sigaretta nel tentativo appunto di farla finita. Gli accertamenti ovviamente continuano, sono in corso, questa è una prima ricostruzione ma come dicevamo appunto le indagini dei carabinieri proseguono e nel frattempo la situazione all'interno del centro commerciale nei garage sotterranei è stata riportata alla normalità. Per ora è tutto per ulteriori aggiornamenti nella prossima edizione del telegiornale. A te la linea. Grazie mille Ermanno, adesso come vi dicevo passiamo invece all'esplosione che ha coinvolto ieri mattina il quartiere di Porta Romana tra Via Vasari e Pier Lombardo. Questa mattina si è propagato un nuovo focolaio che ha dovuto far uscire di nuovo i vigili del fuoco per un nuovo intervento e facciamo il punto nel servizio. Non sono bastate le tante ore di lavoro dei vigili del fuoco e nemmeno l'abbondante pioggia della scorsa sera. Il fuoco torna a comparire in Via Vasari dove giovedì mattina le bombole di ossigeno caricate su un furgone sono scoppiate una dopo l'altra come petardi impazziti. Venerdì mattina intorno alle 7 il centralino dei vigili del fuoco e della polizia è tornato a squillare. Ancora fumo, ancora fiamme, segnalate con crescente preoccupazione dagli abitanti di zona. Il focolaio ha preso forza nella notte causando un nuovo principio di incendio nella mattinata al secondo piano della palazzina che è stata coinvolta dalla violenza dell'esplosione. I mezzi del 115 e della polizia locale sono stati quindi costretti a tornare sul posto e a intervenire nuovamente. Nessun rischio per le persone della zona, spiegano i vigili del fuoco che hanno spento in breve tempo le fiamme. Resta invece chiusa in via precauzionale la scuola delle suore mantellate che si trova proprio di fronte al luogo dove si è sfiorato il disastro. Riaprirà con ogni probabilità lunedì prossimo. Per quanto riguarda il traffico invece una parte di via Pierlombardo rimane interdetta, ovvero quella interessata, tra via Vasari e via Tirabuschi. Un divieto d'accesso alle aree urbane, il cosiddetto da cura da parte della polizia di Stato nei confronti di un pusher che a Rozzano spacciava droga davanti alle scuole, soprattutto nella fattispecie davanti ad un asilo nido. Per tutti i dettagli vado a collegarmi in diretta con il nostro inviato Stefano Galimberti. Allora Stefano, quali sono le ultime? Si tratta di un ventenne italiano residente a Milano che come già annunciavi tu è stato arrestato mentre spacciava in un parco di fronte a un asilo nido a Rozzano. Nel momento poi preciso dell'arresto stava spacciando due dosi di hashish, ma poi a seguito della perquisizione ne sono state trovate altre nove e soprattutto poi in casa sua altri due progetti pronti per poter essere spartiti, per essere rivenduti al dettaglio e già dei proventi verosimilmente dell'attività di spaccio oltre 2.000 euro, 2.250 fatti, questi accaduti nei giorni scorsi e che hanno fatto propendere il questore di Milano appunto per un provvedimento che impedisca al ragazzo che ricordiamo è poco più che ventenne di avvicinarsi alle scuole di Rozzano e in generale all'area urbana della città dell'Interland di Milano. Un provvedimento questo di allontanamento del ragazzo che non è il primo dall'inizio dell'anno, infatti sempre dalla questura, dal palazzo di via Fatebene Fratelli fanno sapere che sono già dieci provvedimenti analoghi che il questore è stato costretto a prendere per garantire la sicurezza in luoghi sensibili come appunto in questo caso quelli dei parchi vicino alle scuole che sempre più spesso sono anche aree dove spacciatori provano appunto a vendere droga. La linea può tornare a te Giussi. Noi adesso andiamo ai temi che riguardano la sicurezza, un tema caldo degli ultimi giorni anche dopo la visita da parte del ministro a Milano, il ministro Piantedosi. Adesso a esporsi è il fondatore dei City Angels a Milano, Pietro Furlan, che nonostante si trovi d'accordo con le parole sia del ministro che di Beppe Sala sul fatto che forse non c'è una vera e propria emergenza sicurezza a Milano, però riflette, fa una riflessione su quanto siano cambiate le cose dal punto di vista dei migranti e della povertà. Se da una parte la percezione dei cittadini è che la criminalità nella città di Milano sia aumentata, stupri, violenze, rapine e aggressioni, dall'altra i dati da poco presentati dal ministro Piantedosi in visita in città rilevano che i reati nella zona della stazione centrale sono diminuiti del 39% rispetto al 2019 e oltre ai dati c'è la testimonianza di chi quelle zone le vive tutti i giorni aiutando i più bisognosi. Sono i City Angels da 29 anni in giro per le strade di Milano con il fondatore Pietro Furlan che si ricorda com'era la zona della stazione 20 anni fa. Io mi ricordo i primi nove giorni del 1999, nove morti in nove giorni, una cosa che non è più successa, quindi si dimentica che allora era peggio, allora davanti alla stazione c'era una zona franca dove non potevi entrare perché comandavano gli spacciatori, vent'anni fa davanti alla stazione centrale c'erano bande di ragazzini che facevano fino a 100 borseggi al giorno. Oggi la situazione è cambiata, c'è sempre non un'emergenza, un problema di sicurezza come in tutte le grandi città, credo che ci sarà sempre, è importante affrontarlo e noi siamo a disposizione. Dall'altro lato però se è diminuita la criminalità è purtroppo a causa della pandemia, del caro energia e della crisi economica aumentata la povertà oltre all'aumento dei flussi migratori. C'è un aumento della povertà, rispetto a quando siamo partiti c'è, che se ne dica un calo della criminalità, un netto calo della droga, c'è un aumento della povertà e c'è un aumento dei migranti che arrivano soprattutto dall'Africa, dall'Asia, in città, in stazione, sono persone che non vengono per delinquere, vengono per rifarsi una vita, ma se non riescono ad integrarsi, allora anziché essere una risorsa diventano un problema. Noi continuiamo con la cronaca e rimaniamo a Milano perché un ragazzo è morto dopo essere caduto nella Darsena a Milano. La tragedia si è consumata nella serata di giovedì intorno alle 21 sul posto all'altezza di Viale Gorizia 30. Sono intervenuti quattro equipaggi di soccorritori tra ambulanze automediche, ma per il giovane, apparentemente un ventenne asiatico non c'era nulla da fare. Il suo cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco dal comando provinciale di Milano dopo ore di ricerca. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti, non è chiaro se si sia trattato di una caduta accidentale o di un gesto volontario. Sulla dinamica della tragedia indaga la Polizia di Stato. Invece adesso torniamo a collegarci in diretta dal nostro Stefano Galimberti perché è stato trovato il responsabile che avrebbe lasciato i rifiuti della propria azienda nella cascina legnana circa un mese fa. Abbiamo dato conto di questa segnalazione che era arrivata alla nostra redazione. Oggi finalmente c'è un nome di un colpevole. Stefano. Sì Giussi, un nome che ovviamente non viene svelato, nel senso che sono in atto le indagini della magistratura, ma il punto a cui si è arrivati è che durante una delle giornate ecologiche che si svolgono spesso nel weekend qui nei comuni di provincia, dove ci sono dei volontari che si occupano di raccogliere i rifiuti lasciati in modo illecito per le strade, è stato rinvenuto tra il cumulo di rifiuti che vedete nella cascina legnana, che è una cascina che sta al confine tra Marcallo e Magenta, dei documenti che dimostrerebbero che almeno parte degli inerti arrivati appunto nei campi a Marcallo proverrebbero da una cantiere alle porte di Milano. Per questo come vediamo c'è stata una conferenza stampa, hanno presenziato il sindaco di Marcallo, il senatore Massimo Garavaglia e il comandante della polizia locale Antonio Nioschintu che hanno appunto spiegato quello che è il punto a cui sono arrivate le loro attività di rimozione dei rifiuti alla cascina legnana e non solo, ma anche a questo punto poi le indagini che si svilupperanno e sono in mano in questo momento ai carabinieri forestali per stabilire se questi documenti poi siano una prova effettiva, con tutta probabilità lo sono, del fatto che gli scarichi di questi rifiuti provenienti da cantieri siano imputabili a una persona in particolare, a un'azienda, è un'azienda che opera in un cantiere alle porte di Milano. Occasione è stata questa anche per fare il punto su quello che è l'abbandono di rifiuti che è un tema che appunto affligge tutti i comuni di provincia, paradossalmente più si va avanti con la raccolta differenziata da una parte più dall'altra c'è chi non la vuole fare o chi non vuole pagare la Tari o non si sa per quali altri motivi che sceglie poi di abbandonare spesso nelle ore notturne, spesso nelle strade che collegano i comuni e quindi per forza di cose sono meno presidiate appunto i rifiuti che in questo caso poi non sono semplici pattumiera proveniente dalle case di abitazioni private ma appunto dei rifiuti provenienti da un cantiere, da un'azienda e quindi la situazione è molto più grave, più importante e infatti già la sanzione che potrà aspettare al colpevole qualora la magistratura dimostrerà che è davvero lui e appunto una sanzione che riguarderà anche la sua attività che nel caso non potrà più operare fino poi all'appagamento delle multe che derivano dall'abbandono di rifiuti industriali in modo illecito. La linea può tornare a te Giusy. Grazie mille Stefano, noi cambiamo decisamente registro perché all'Andriano il progetto street art è stato un vero e proprio successo, i ragazzi hanno dipinto e colorato i muri della palestra cittadina di Via Dalla Chiesa. Vediamo. Bomboletti in mano, molta libertà e tanto spazio dove esprimerla. È stato un successo l'appuntamento dedicato alla street art organizzato dal comune di Landriano. I ragazzi accompagnati da Ryder Plisky hanno colorato i muri della palestra cittadina di Via Dalla Chiesa, uno spazio utilizzato non solo dalle scuole ma anche da tante associazioni attive in paese. Un evento dedicato a bambini e ragazzi non solo hanno partecipato tantissimi residenti ma anche cittadini non del nostro comune. La giornata organizzata dall'amministrazione in collaborazione con la dirigente scolastica è stato un modo per avvicinare i ragazzi a questa forma d'arte che sta sempre prendendo più piede a livello nazionale. Abbiamo deciso di dedicare ai ragazzi i muri della palestra di Via Dalla Chiesa, palestra che viene utilizzata dalle scuole durante le ore di ginnastica e anche da associazioni del territorio per le loro attività e con la collaborazione preziosissima del writer cittadino Plisky abbiamo deciso di proprio dare in mano ai ragazzi una bomboletta. L'obiettivo, spiega l'assessore Galli, era spingere i ragazzi a esprimere la loro creatività e il risultato finale è stato entusiasmante. Hanno partecipato moltissimi ragazzi e la cosa ci ha fatto estremamente piacere ma perché l'abbiamo organizzato? Beh innanzitutto per ingentilire e abbellire i locali della palestra che risale agli anni 30 ma soprattutto per mettere alla prova i giovani, per dargli un pomeriggio di svago che non sia il cellulare o il divano ma mettere a frutto le loro potenzialità e la loro creatività che a quest'età è veramente molto alta. Siamo sicuri che la manifestazione sia stata recepita e sia piaciuta moltissimo quindi sicuramente rinnoveremo negli anni prossimi questa iniziativa. Adesso torniamo in diretta da Ermanno Bidone perché a Voghera il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione per la costruzione di un parco pubblico nei giardini dell'ex manicomio. Allora Ermanno? Sì Giuse, è proprio così. Nelle scorse settimane una petizione che ha già visto l'adesione di oltre 300 vogheresi che hanno appunto firmato per chiedere al Comune di realizzare questo parco pubblico all'interno dei giardini dell'ex ospedale psichiatrico fra Viale Repubblica e appunto la struttura ormai dismessa da diverso tempo al di là di alcune aree che vengono ancora utilizzate da SST Pavia e questa petizione si ripeterà domani nel weekend appunto per chiedere nuova adesione da parte dei cittadini e lunedì sera verrà appunto portata in consiglio comunale dalla consigliere comunale di opposizione del Movimento 5 Stelle Antonio Marfi che ha presentato una mozione proprio per chiedere al consiglio comunale di procedere con questa iniziativa. Si vedrà come andrà e se avrà fortuna appunto questa richiesta che consiste appunto nella riqualificazione di quest'area dicevamo prima fra la struttura dismessa dell'ex ospedale psichiatrico e Viale Repubblica nella sua riqualificazione dicevamo nell'attrezzarla con strutture idonee insomma renderla un parco pubblico a tutti gli effetti ma anche per creare un percorso storico culturale ha spiegato il consigliere comunale Marfi per raccontare la storia di questo luogo sì un luogo sicuramente di sofferenze un luogo aperto nel 1876 e chiuso nel 1998 vent'anni dopo la legge Basaglia ma che è sicuramente un bagaglio storico e culturale della città che val la pena secondo i promotori di questa iniziativa raccontare attraverso appunto un percorso culturale all'interno di questo parco si vedrà se la mozione dei 5 stelle avrà fortuna per ora è tutto ti restituisco la linea grazie mille hermano noi ci spostiamo a vigevano perché è stato presentato un esposto dai residenti contro la cosiddetta ma la movida intanto il comune ha dichiarato che convocherà i commercianti partirà un esposto in procura per i problemi derivanti dalla movida nella zona di via roncalli e via del popolo avvigevano ad annunciarlo un gruppo di residenti che nella mattinata di giovedì ha incontrato esponenti dell'amministrazione comunale da tempo i cittadini denunciano una situazione diventata insostenibile con schiamazzi fino a tardissima ora nei weekend e i problemi di decoro urbano nei giorni scorsi avevamo già trasmesso degli eloquenti filmati in cui si vedevano giovani urinare contro i portoni dei garage e utilizzare i davanzali delle finestre delle case come fossero tavolini per appoggiare cocktail e sostanze sospette non mancano poi le occasioni di tensione con litigi e spintoni fino al caso limite di un ragazzo trovato all'alba sdraiato a pelle d'orso sul selciato completamente ubriaco davanti a un passo carrabile i residenti faranno una petizione che sarà legata all'esposto da inviare in procura ed ora in poi sporgeranno formale denuncia le forze dell'ordine per qualsiasi episodio si dovesse verificare in comune da parte sua convocherà i gestori dei locali di quella che sta diventando la principale area della movida vigevanese per un confronto all'incontro con i residenti hanno partecipato il sindaco andrea ceffa l'assessore alla polizia locale nicola scardillo e il comandante della polizia locale giuseppe calcaterra è stato spiegato come gli agenti stiano già intensificando i pattugliamenti e si è cercato di tracciare un piano d'azione non è un problema di veloce risoluzione ha commentato il sindaco ceffa ma è già successo in altre zone dove eravamo riusciti a intervenire un'ipotesi potrebbe essere quella degli steward sul modello di quanto avviene a pavia è la stessa prefettura a incentivare questa modalità d'altronde continua ceffa e anche nell'interesse di chi gestisce i locali mantenere una situazione tranquilla qualcuno intanto ha già perso la pazienza e ha lasciato l'appartamento in affitto che aveva in via roncalli altri inquilini secondo alcune segnalazioni avrebbero manifestato al padrone di casa l'intenzione di andarsene se non si troverà una soluzione al problema continua l'emergenza della carenza dei medici in lomellina in un medico definitivo lascerà tromello dal 9 giugno si accendono di nuovo i riflettori sulla carenza dei medici nel territorio stavolta nel comune di tromello dove dal 9 giugno lascerà l'incarico la dottoressa luisa montesion uno dei due medici definitivi in paese la dottoressa montesion prenderà servizio dal 15 giugno nell'ambito territoriale di pavia città in cui vive la decisione è stata comunicata dalla professionista in una lettera indirizzata ai cittadini successivamente ripresa dall'amministrazione comunale di tromello nella lettera la dottoressa montesion ha fatto sapere di star già diffondendo la notizia tra tutti i colleghi che conosce per aiutare a ts nella ricerca di un medico che la sostituisca in paese da inizio anno ha preso servizio con incarico a tempo indeterminato la dottoressa maria luisa ferrandi operativa per quanto riguarda l'ambito sanitario di tromello tobiano san giorgio e borgo san siro toccherà lei farsi carico dei mutuati rimasti scoperti quasi la metà in paese in attesa che l'agenzia della tutela della salute di pavia provveda la nomina di un sostituto di recente nella bassa lomellina a breme ha preso servizio un medico a tempo pieno a gestire 550 mutuati rimasti scoperti dopo un pensionamento mentre a valle era stato nominato un provvisorio sempre in sostituzione di un pensionamento un problema che però si ripresenterà tra un anno quando anche l'altro professionista presente in paese che copre quasi tutti i residenti andrà in pensione le piogge degli ultimi giorni hanno alleviato la situazione siccità nel milanese in tutta la regione grazie alle ultime precipitazioni alle manovre stabilite ed attuate durante i tavoli in regione siamo infatti passati da un deficit di meno 60 per cento all'attuale 37 per cento l'ho annunciato massimo sertori assessore regionale antilocali montagne risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica in regione lombardia la situazione siccità non si è ancora risolta ma non è più critica come nelle scorse settimane secondo i dati diffusi da regione mancano all'appello ancora un miliardo di metro cubi d'acqua ma l'anno scorso in questi giorni la disponibilità di oro blu era inferiore di quasi 500 milioni di metri cubi cambiamo argomento perché biper banca fa sapere che ci sono stati degli ottimi risultati nel primo trimestre del 2023 risultati eccellenti il commento dell'amministratore delegato di biper banca luigi montani fa trasparire grande soddisfazione dall'approvazione dei risultati consolidati del gruppo al 31 marzo 2023 l'accelerazione del margine di interesse e la tenuta delle commissioni nette vengono indicati come fattori determinanti nel conseguimento del risultato in un quadro macroeconomico che ha visto nell'inizio dell'anno una leggera crescita dell'attività economica con il permanere di un livello elevato di inflazione biper banca vede crescere i proventi operativi del 49 per cento rispetto a un anno fa con la gestione operativa salita 643 milioni più 97,5 per cento rispetto al primo trimestre 2022 la banca ha migliorato la qualità del credito con gli indicatori di rischio in questo comparto che si confermano su livelli molto contenuti biper ha fatto sapere che intende cedere entro la fine del semestre in corso ulteriori 400 milioni di crediti utp di difficile recuperabilità la banca la prima in italia per il grado di copertura dei crediti deteriorati pari al 60,9 per cento risultati superiori a requisiti richiesti si segnalano inoltre in tema di solidità e liquidità confermata infine la crescita nei settori sg environmental social e government il contesto di mercato resta caratterizzato dall'incertezza geopolitica e dalla persistenza di un'elevata inflazione ma biper banca resta fiduciosa sul futuro la banca saprà gestire efficacemente le nuove sfide grazie ai progressi compiuti sul fronte della generazione dei ricavi alla robusta posizione patrimoniale di liquidità e alla solida qualità del credito ha concluso l'amministratore delegato luigi montani e questa era la nostra ultima notizia io vi lascio le previsioni del meteo l'appuntamento torna questa sera alle 19 con le edizioni serali dei nostri tg io vi auguro una buona giornata grazie a tutti 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 Grazie a tutti.